Una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Fiali Pegaso, i veri mobili artigianali venditi in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più, tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Sarà un sabato, quello prossimo, ad alta tensione per gli sportivi tifosi dell'Alessandria. I Grigi, in notturna, alle ore 20 e 30, affronteranno il Renate. Si cercherà in queste ore di trovare una possibile intesa tra i tifosi e Ultras Grigi per evitare che un forte gruppo di sostenitori potrebbe disertare la curva nord. Ricucire la spaccatura fra società e tifosi è importante, soprattutto dopo aver conosciuto il risultato della Cremonese che giocherà nel pomeriggio. Per quanto riguarda la squadra, il neotecnico dell'Alessandria, Mr. Pillon, cercherà di trovare una quadra per evitare che la formazione venga condizionata dai manuori che sono sorti dopo gli ultimi risultati negativi ottenuti dalla formazione grigia. Il Meteo, in collaborazione con Vuoi rottamare la tua vecchia stufa? Fino al 30 giugno, Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, montaggio e certificazioni a 165 euro, finanziamento a tasso zero in 12 mesi con prima rata a 90 giorni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Fino al 30 giugno, Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, ritiro e smaltimento usato, assistenza in 24 ore, opportunità di canalizzazione, detrazione fiscale del 50% e il Val 10%. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. La Fondazione Teodora allevia le sofferenze dei bambini ricoverati in ospedale attraverso un'attività artistica giocosa e divertente. La visita dei Dottor Sogni I Dottor Sogni restituiscono il diritto a giocare ai piccoli ricoverati, portando loro un mondo di magie, colori e giochi di prestigio e divertimento. Sono gli interlocutori privilegiati dei bambini perché capiscono e parlano il loro stesso linguaggio. In più, offrono un valido sostegno alle famiglie. E sono anche artisti professionisti che collaborano con medici e infermieri. Cambiano ogni volta approccio a seconda delle esigenze dei vari reparti. Grazie alla visita settimanale dei Dottor Sogni, i bambini evadono per alcuni attimi dalla realtà, a volte temuta, dell'ospedale. Tutti i bambini hanno diritto a questo momento di gioia. Per informazioni, info.chiocciolateodora.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.